RITROVARE L'ANIMA Riesce a esprimere un gioco accettabile, significa che sono stati commessi degli errori. Da chi ha costruito questa squadra, da chi la mette in campo e da chi in campo scende, nessuno escluso. Sarà dunque la settimana della chiarezza, quella che è cominciata questa mattina con una lunga riunione dirigenziale tra Pulvirenti, Bonanno e Cosentino, per proseguire con il ritiro, un momento di riflessione inevitabile, che potrà dare solo effetti positivi, perché oggettivamente è difficile immaginare come le cose possono andare peggio di così. Nella settimana del ritiro poi De Canio ritroverà a tempo pieno pedine importanti e qualcuno poco considerato nelle ultime gare ritornerà a dare il suo contributo. In difesa si tornerà all'antico, perché verosimilmente domenica ritroveranno una maglia da titolare, Biraghi e soprattutto Nicola Spolli, già pronto da due settimane. A centro campo non ci saranno Almiron e Izco. Quest'ultimo ha lavorato in palestra, mentre ad Almiron è stata riscontrata una distrazione del bicipite femorale destro. In avanti invece toccherà la fantasia di Pablo Barrientos, ispirare Maxi Lopez. De Canio ha in mente diverse soluzioni, tra queste anche la difesa a tre, con le grottaie, ghiomber e spolli. Oggi intanto in partitella è il rete Lopez, Castro, Barrientos, Taxidis, Plasile e Freire. Modulo e tattica a parte però l'obiettivo principale del tecnico è conquistare la fiducia e la complicità dei suoi giocatori, cancellando l'ombra ingombrante di Rolando Maran. Modulo e tattica a parte però l'ombra ingombrante di Rolando Maran.